Buon pomeriggio, buon pomeriggio, benvenuti alla sessione di trading con Ichimoku più price action, oggi giovedì 25 marzo 2021, io sono Riccardo Zago e come ogni giovedì andiamo ad aggiornare tutte le nostre posizioni, vediamo quali sono i trend a mio avviso più interessanti e chiaramente andremo a impostare i vari ordini pendenti, alcuni già segnalati all'interno del gruppo Traders Club, il gruppo Telegram di investire.biz, vedremo quindi sì, GBP Audi, Luciano tra l'altro è d'accordo con me, siamo in molti quest'oggi, spero di rispondere tutti quanti, un peccato aver chiuso la posizione l'altro giorno su GBP Audi perché eravamo già long dai minimi, eravamo long da qui, anzi da qui, da 1.7950 e niente, alla fine ho chiuso la posizione perché vedevo che non c'era abbastanza forza per salire e ho sbagliato, abbiamo avuto poca pazienza, però insomma la conferma di non di ieri ma dell'altro ieri è una bella conferma rialzista e insomma adesso vediamo un attimo dove ci può portare, comunque oggi vedremo GBP Audi, mi avete chiesto di vedere anche l'argento, noi abbiamo già delle posizioni sul gold, sull'oro, poi vedremo GBP USD, cambi valutari a mio avviso molto interessante dove impostiamo degli ordini pendenti, anche euro yen, andiamo a impostare una nuova operatività, euro dollar abbiamo chiuso in profitto questa posizione ma abbiamo chiuso in profitto anche la posizione su Audi USD, un ottimo profitto tra l'altro devo dire, il dollaro sta continuando ad apprezzarsi e visto che stiamo parlando di dollaro tutti stanno vedendo che insomma il dollaro si sta apprezzando contro tutte le altre valute, dobbiamo chiaramente fare due commenti anche sull'indice e scusate anche sul dollar index eccolo qui che continua a salire come tra l'altro avevamo detto qualche settimana fa anche durante i webinar del lunedì, andiamo però aggiungere i cimoco e vediamo un po' quello che sta succedendo anche su questo importante strumento, ne abbiamo parlato di questo livello a 91 e 40, 91 e 60 e proprio da qui infatti i prezzi sono tornati a salire con forza fino a dove potranno arrivare, quindi vediamo anche la forza che ci potrà essere sul dollar index, abbiamo detto di USD, GBP, AUD, argento, il gold, bitcoin, insomma tutto, andremo a vedere tutto, anche gli indici azionari, indice S&P 500, Nasdaq 100, DAX, insomma anche in base alle vostre richieste, Nasdaq interessante dice Luciano, sì immagino che tu sia ancora posizionato al ribasso e stai chiaramente facendo un ottimo trade, vi ricorderete che la settimana scorsa abbiamo chiuso la posizione, avevamo messo uno stop loss un po' troppo stretto, però insomma adesso andiamo a recuperare il tutto, aggiungiamo quindi gli indici SPX, ecco qui S&P 500, cash, andiamo a prendere l'indicatore i cimoco, siamo molto vicino allo stop qui su S&P 500, possiamo anche allargarlo, se siete qui in diretta possiamo anche valutare di allargarlo un po', in quanto in questi minuti la linea Kijun e anche la Kumo di Ichimoku stanno funzionando da supporto, ok? Quindi molto importante questa zona, allarghiamo un attimo lo stop loss per lasciare un po' più di spazio al mercato, quando la volatilità è alta si può anche valutare di allargare gli stop loss, quindi teniamo d'occhio anche S&P 500, insomma ne abbiamo da vedere, prima però di iniziare chiedo un feedback audio e video, mi chiedete di vedere anche Euro Yen, assolutamente sì, insomma audio e video sono ok, possiamo iniziare, datemi questo feedback, nel frattempo che mi date tutti i feedback io ricordo che cosa? Io ricordo che a breve iniziamo inizierà il corso completo Ichimoku e Price Action, eccolo qui, inizierà nella giornata di lunedì, scusate nella giornata di martedì 30 marzo 2021, dalle ore 18 alle ore 20, si parlerà di Price Action la prima lezione, nella lezione dell'indicatore Ichimoku e poi nella lezione numero 3 Ichimoku e Price Action in sinergia perché chiaramente dovremmo andare ad unire le strategie e poi nella lezione numero 4 che attenzione non è il 20, non è assolutamente il 20 ma il 27 infatti la posticipiamo così avete anche più tempo per studiare il tutto, come vedete il corso è in sconto del 50% e rimarrà così fino al 30.03, se avete delle domande chiaramente su questo corso potete tranquillamente farle, io sono qui a posta, bene siete già tantissimi poi quindi questo mi fa assolutamente piacere, come audio e video siamo a posto, bene possiamo subito iniziare, 30 secondi iniziamo. Eccoci qui quindi, mi chiedete subito se è un corso di analisi tecnica, diciamo che è un corso sulla Price Action e sull'indicatore Ichimoku, quindi sì analisi tecnica assolutamente, però un'analisi tecnica differente dal solito, non andremo a vedere figure dell'analisi tecnico o quant'altro, ma la Price Action nel dettaglio, come sfruttare tutte le informazioni che ci dà candela, che ci danno insomma le candele giorno dopo giorno o comunque candela dopo candela in base al time frame di riferimento. Bene, andiamo subito sulla piattaforma di Kimura Trading, eccoci qui, iniziamo chiaramente a parlare di Bitcoin perché anche Bitcoin sta scendendo e direi finalmente, stavamo tenendo d'occhio già nella settimana scorsa il livello di 52.000, tutta la zona compresa tra 52.000 dollari e 50.000 dollari, ecco qui siamo in questo momento su un time frame settimanale, per quanto riguarda invece il time frame, per quanto riguarda il time frame giornale ci accorgiamo che siamo proprio su questa zona supportiva, eccoci qui, e insomma non entriamo per il momento al rialzo, secondo me è iniziato un ritracciamento che può portare i prezzi anche fino a 45.000 e come vedete abbiamo un target a 40.000 dollari, nel senso, un target scusate, abbiamo un ordine pendente, long da 40.000 dollari, ecco qua, allora andiamo a vedere cosa secondo me sta per succedere, abbiamo un massimo, un minimo qui e poi un ritracciamento che va a finire qui, la prima zona quindi come vi dicevo è compresa esattamente qui e in fatalità troviamo anche un bel target, un bel primo target, adesso andiamo a tracciarli tutti, però quello che vediamo è che questo è il massimo, questo è il minimo e questa può essere presa in considerazione questa come la fine del ritracciamento oppure anche questa qui, diciamo che è un po' difficile valutare insomma se può essere questa o questa, poi può venirci incontro la ciclicità, in questo caso da qui a qui sono come vedete otto periodi, 7 più 1 quindi sicuramente è importante questo massimo qui. I prezzi oggi stanno per rompere la linea cushion, vedremo se questo succederà alla fine della giornata perché chiaramente deve essere confermata questa rottura, non è detto magari da qui i prezzi tornano a salire, se invece la rottura viene confermata attenzione domani alla rottura del livello di 50.000, occhio perché secondo me iniziamo a scendere anche un po' di più, sarebbe anche ora che i prezzi scendessero perché per essere sostenibile un trend di lungo termine deve salire ma deve anche scendere. Nel caso di questo time frame settimanale, guardando questo time frame di che cosa ci accorgiamo? Che c'è stato un bel rialzo con impulsi, ritracciamenti perché ragazzi noi non dobbiamo dimenticare che c'è stato un impulso dai 17.000 e poi un ritracciamento fino a 40 e poi un ritracciamento fino a 30, 29.500, da qui è partito un altro impulso con il ritracciamento che è stato questo qui e poi da qui un altro impulso con il ritracciamento a cui stiamo assistendo esattamente in questo momento. Bene, che altro aggiungere? Teniamo il nostro ordine pendente a 40.000 che va comunque benissimo con una posizione minima per vedere insomma poi cosa succederà anche nei giorni successivi, siamo long anche su Litecoin dove siamo in perdita però anche quella è un'operazione da tenere in piattaforma per un po' di mesi o comunque per un po' di settimane per poi venderla intorno ai livelli che avevamo già visto anche l'altra volta, poi andiamo ad aggiornare pure quelli. Comunque Bitcoin allerta 45.000, questo è l'aggiornamento e poi ordine pendente a 40.000, la rottura della Kishun potrebbe aprire anche nuove interessanti un'interessante opportunità ribasso, sarà il caso di vendere Bitcoin se i prezzi rompono la Kishun e perché no devo dire io, però dobbiamo attendere la chiusura daily, vedere domani la reazione per capire se sarà una falsa rottura o meno e se domani rimaniamo, facciamo finta che oggi i prezzi chiudano così e la candela chiuda così. Bene, domani c'è un ritracciamento, bene, se i prezzi rimangono sotto questi due minimi qui bene, allora poi possiamo anche valutare di aprire una bella posizione a ribasso su Bitcoin con target a 45.000 perché secondo me poi c'è spazio fino a 45.000. Bene, e questa è la situazione sul Bitcoin. mi chiedete di vedere anche il petrolio, il petrolio è una delle cose che volevo vedere quest'oggi eccolo qui, ieri i prezzi hanno testato il livello di 61, sicuramente una zona importante però come abbiamo già detto precedentemente la zona più interessante, la zona da rompere per cambiare il trend, per iniziare a insomma, per vedere i primi segnali di trend, di cambio di trend era il livello di 59. 59 è stato rotto a ribasso proprio due giorni fa, ieri i prezzi sono ritornati però molto in alto, infatti si pensava ad una falsa rottura, si pensava ad una falsa rottura e anche al trading live avevo detto attenzione se volete rischiare un po' di più, non so chi c'era ieri al trading live perché eravamo tipo 400 persone ma se c'eravate vi ricorderete che ho detto per chi vuole rischiare un po' di più si può entrare dove ho il cursore short quindi da 60 e 50 con uno stop a 62 e poi un target price che chiaramente bisognava definire oggi abbiamo di nuovo un ribasso importante quindi la volatilità è molto alta ma i massimi e i minimi iniziano ad essere decrescenti quindi la nostra view sul petrolio è ribassista almeno fino a quando i prezzi non torneranno in chiusura degli sopra il livello di 62 dollari al barile quindi andiamo a segnarci questi livelli 62 dollari al barile è sicuramente il livello chiave prendiamoci una fascia di prezzo quindi facciamo da 61 a 62 molto bene e niente insomma dobbiamo capire se è il caso di entrare short oppure se dobbiamo un attimo un attimo aspettare non secondo me non dobbiamo entrare short su questi minimi qui anche perché come ho detto la volatilità è alta per il momento per il momento il livello di 61 è sicuramente il più importante infatti andiamo a impostare un bel alert di prezzo impostiamo aller di prezzo qui possiamo scrivere con la piattaforma di chimura il livello che ci interessa quindi andiamo a scrivere 61 crea avviso ed ecco qua che abbiamo creato l'avviso quando i prezzi tornano a 61 valuteremo il modo in cui ci sono arrivati e apriremo uno per e valuteremo uno short molto probabilmente però con questa volatilità secondo me ora si possono fare magari più trade intraday insomma so che a molti di voi piace fare trading intraday si segue il trade il trend della giornata e si va a fare trading anche sui 15 minuti per carità questo lo si può sempre fare rotture dei supporti rotture di minimi importanti si entra short questo chiaramente se avete tempo per farlo tutto il giorno tutti i giorni potete farlo però chiaramente serve tempo detto ciò guardando un time frame daily andiamo a tracciare i possibili scenari alcuni possibili scenari anzi prima vediamo la ciclicità partendo da questo massimo abbiamo un minimo qui e un massimo qui guardate sono 10 sono 11 siamo assolutamente dentro le tolleranze quindi andiamo a tracciare i nostri gli obiettivi l'obiettivo finale pensate addirittura in area 48 però questi sono sempre le estensioni più ampie andiamo a vedere quali sono le estensioni la seconda il secondo target in area 52 sicuramente questo potrebbe essere un target finale color decidessimo di entrare in posizione a ribasso andiamo a vedere anche altro andiamo a vedere anche questo obiettivo in area 56 e poi infine tracciamo da questo punto a questo punto e notiamo che abbiamo un 54 e 53 teniamoli d'occhio questi livelli direi che tutta la zona compresa da 54 e 50 52 insomma è una zona supportiva che potrebbe essere interessante però ragazzi qui può anche essere qui può anche essere che il trend sia già cambiato ok la cumo quindi la nuvola di simoku nei 26 periodi successivi è ancora bella no non è più tanto bella ampia ma è ancora ascendente però che cosa iniziamo a notare iniziamo a notare la kishun che passa sopra la tenka aumenti di volatilità con massimi e minimi decrescenti e poi una cosa molto importante la kiko che la linea nera è passata sotto i prezzi dei periodi precedenti ritesto ieri tra l'altro dei 26 periodi precedenti oggi si ritorna a scendere quindi impostazione al ribasso primi segnali chiari di inversione di trend molto bene e noi dobbiamo cercare di capire quando entrare abbiamo un livello in area abbiamo un alert in area 61 ma se vogliamo essere ancora più precisi o comunque avere altre zone ovviamente ne abbiamo già parlato il livello di 59 è sicuramente un altro punto dove si può valutare di iniziare ad aprire delle posizioni a ribasso però prima voglio attendere la chiusura giornaliera sull'h4 sull'h1 non ci sono dei particolari segnali o comunque strutture molto interessanti sull'h4 notiamo che comunque appena i prezzi arrivano a 61 così vengono respinti quindi direi che direi che questa è la view sul petrolio a livello settimanale come siamo messi beh a livello settimanale fisiologicamente ci sta questo questo ribasso e abbiamo spazio fino alla chiusura quindi poi la chiusura col tempo si alza ma questo lo vedremo al corso come perché le formule eccetera però insomma c'è spazio al ribasso per quanto riguarda il daily eccolo qui per quanto riguarda il daily abbiamo detto tutto anche oggi testati questa zona di minimi che sembra voler funzionare da supporto ma secondo me verrà rotta però insomma assegniamocela dobbiamo avere un po di pazienza però questo al momento secondo me è il trend senza ombra di dubbio Kevin fa una domanda interessante ciao Riccardo volevo chiederti se nel corso parlerai anche in grosso modo degli elementi di fibonacci che utilizzi no in grosso modo nel dettaglio tutto quanto quello che vediamo qui lo spiegheremo nel corso quindi i cicli dell'indicatore ichimoku come calcolare i target dell'indicatore ichimoku e tutte le medi dell'indicatore ichimoku tutta la price action tutto quanto la gestione del rischio money management psicologia nel trading emozioni e tutto quello che ne viene fuori luciano 52 come target è molto bello ci passa l'acquisizione settimanale ecco quindi occhio a 52 potrebbe essere un target di medio termine i cars ha senso guardarlo con ichimoku secondo me no ancora troppo presto aspettiamo un po però adesso io leggo un po di domande francesco secondo me la candela di ieri dice francesco del petrole è stata influenzata da quello che è successo al canale di suez e quindi il ritracciamento è andato un po più su di quel che ci si aspettava sì perché chiaramente la voletà la volatilità è aumentata però oggi sembra confermare la continuazione del ritracciamento verso il basso esattamente quello che penso francesco bravissimo sono d'accordo con te mirko vti su h4 il 22 è stato sempre respinto cosa vuol dire il 22 non ho capito bene e stefano ciao riccardo una domanda ho già fatto il tuo corso trading con ichimoku il corso definitivo secondo te ha senso rifare anche l'ultimo da te proposto allora stefano dipende quale corso hai fatto se non hai mai fatto il corso completo ichimoku price action secondo me assolutamente sì simone mi dice riccardo mi hai convinto a breve compro guarda secondo me ti conviene per quanto riguarda le conoscenze del trading online se non lo hai già fatto mirko ha il 22 marzo dove sono entrato al ribasso bene mirko comunque si è entrato da qui beh comunque bravissimo io ieri ero un po indeciso volevo un po entrare però insomma queste candele non è che mi convince la candela di aria non è che mi convinceva particolarmente è vero c'era alta volatilità per il discorso del canale di suez e proprio per quello anche magari non sono entrato insomma non mi è non ero ancora convinto però oggi un ritorno una ripresa totale della candela al rialzo di ieri conferma quindi quello che è il trend ribassista almeno per il momento ok quindi abbiamo visto tutto per quanto riguarda il petrolio rimaniamo su sulle materie prime e andiamo a vedere il gold entrato ieri a 61 bravo complimenti giuseppe 61 eh cavolo 61 stiamo parlando di 300 punti in un giorno stop impari chiudi parte della posizione e lascia correre se tipo ti sei se ti sei esposto tanto e stai facendo bei soldi rispetto al tuo conto porta a casa un po stop impari e non guardare più la posizione finché non arriva a 52 e 30 o comunque insomma sui target che abbiamo visto ah hai chiuso prima vabbè dai comunque hai fatto 300 punti di petrolio insomma non mi sembra per niente male eh andiamo avanti perché dopo aver visto il petrolio abbiamo detto che dobbiamo vedere il gold abbiamo euro yen gbp usd gold qui abbiamo le nostre posizioni delle posizioni long e anche una posizione short vediamo che cosa sta succedendo anche a livello ciclico eh non solo a livello tecnico allora vabbè non voglio ripetermi troppe volte perché l'ho già detto tante volte questa settimana ormai è da diverso tempo che lo dico però per il momento il trend è ribassista molto interessante la eh il test quasi o comunque il test di questa zona qui questo è un livello importantissimo ragazzi la rottura al rialzo di questa zona secondo me cambia il trend da ribassista a rialzista io lo dico io lo dico guardate quante volte i prezzi hanno testato a livello di 1745 chiusura qui apertura qui ma guardate che i prezzi non hanno mai chiuso sopra questo livello uno due tre quattro volte e poi si scende oggi nuovo test nuovo test se rompe la question a rialzo usciamo dalla posizione fine della storia anzi qui si potrebbe anche valutare di incrementare per esempio non così con un milione e mezzo di controvalore però eh si può secondo me incrementare un po' la posizione a ribasso perché perché possiamo aumentare il rischio perché sappiamo che se i prezzi chiudono sopra qui usciamo dalla posizione allora eh Sebastian Riccardo proviamo un'operazione short nel gold grafico 15 minuti vediamolo questo 15 minuti vale la pena insomma eh sul 15 minuti abbiamo un impulso a rialzo un ritracciamento qui io andrei più long che short per esempio guardando un grafico del genere perché eh perché ragazzi noi abbiamo time frame a 15 minuti impulso dai minimi candela d'alta volatilità che rompe eh la Kumo la Tenkan la Kijun eh raggiungimento di un livello chiave ritracciamento su un supporto e quindi qui sarebbe più 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 long che short però per quanto riguarda il gold sapete che a me piace operare sul daily e e basta volatilità molto alta qui è un po' rischioso andare a operare subito però insomma se tu hai una buona strategia sul 15 minuti assolutamente si può provare per quanto invece riguarda le posizioni da incrementare si potrebbe valutare io se devo essere sincero adesso apro qui e vado a vendere un altro 0,1 0 di gold eccolo qua un'altra posizioncina al ribasso ok incrementiamo un po' perché mi piace quello che sto vedendo però su analisi giornaliera quindi poi valuteremo il da farsi insomma valuteremo l'operatività alla chiusura della candela se possiamo allora possiamo lasciare spazio fino a sopra 1745 oppure un altro livello che aveva 1755 d'accordissimo sul gold dice francesco luciano io oggi ho chiuso lo short sul silver sul primo target anche perché sto vedendo il sentiment del gold che sta cambiando ah dici che ci sono tante persone posizionate al ribasso e quindi bisogna fare un po' più attenzione sì è vero ma il rischio è molto basso quindi secondo me almeno per il momento va bene così come obiettivo di questo short li andiamo a vedere subito li avevamo già visti li rivediamo velocemente poi passiamo ai cambi valutari comunque noi abbiamo un impulso che parte da qui finisce qui e questo è il ritracciamento quindi 1616 è il target finale sostanzialmente ok bene il target finale 1616 però è chiaro che a 1700 spostiamo lo stop in pari a 1680 valutiamo se magari è il caso di portare a casa parte la posizione o meno ottimo direi andiamo avanti andiamo avanti avete delle domande particolari sul gold no Enrico dice che se sull'argento la chiusura giornaliera è così è un'inversione vediamolo eccoci qui siamo sull'argento e come sempre i cimoco ci dà proprio i nostri livelli in maniera molto accurata infatti la Senco Span B piatta che è questa ha funzionato da supporto insieme agli altri vari supporti che troviamo qui vedete nel passato anche qui e poi tutte queste ombre questa è una zona supportiva molto importante però prima di parlare di inversione io penso che bisogna tenere massimi e minimi crescenti quindi sono d'accordo che siamo su un supporto e che una chiusura del genere potrebbe portare a dei rialzi ma non posso dire che siamo di fronte a un cambio di trend no quindi è vero attenzione se chiude così chiuderei per esempio le mie posizioni short assolutamente per posizioni long anche potrei aprire delle posizioni long ma attenzione perché lo stop andrebbe sotto qui il target è il target non si sa perché è un'operazione contro trend il primo livello buono è in area 26 25 quindi non è un'operazione che mi piace particolarmente come long e non la faccio però qui se chiude così io uscirei dagli short ok andiamo avanti Luciano io ho chiuso proprio sul livello tracciato e piattone il piattone eccolo qua assolutamente l'hai fatto bene e bene abbiamo visto il gold prima di parlare delle valute tra l'altro siamo entrati long su questo parliamo del dollar index allora dollar index settimanale ragazzi qui è long c'è niente da fare quindi è long fino a 94 secondo me 94 94 e mezzo secondo me il dollar index può salire fino a 94 94 e mezzo l'abbiamo già detto diverse volte è per questo che siamo entrati anche short su euro dollar short su di usd adesso siamo anche short sul gold devo dire che ha funzionato molto bene qui nella zona supportiva che in precedenza era una zona resistenziale infatti dopo questo allora questo è stato il primo minimo poi c'è stato un minimo crescente eccolo qua bene e da qui è partito l'impulso ritracciamento impulso che rompe vedete rompe la linea tenka nella linea chijun rompe la cumo si porta sopra i massimi precedenti primo segnale rialzista ritracciamento su quelli che erano i massimi quindi sulla resistenza che ha funzionato chiaramente da supporto e da qui i prezzi stanno salendo e hanno appena fatto un nuovo massimo quindi il dollar index è rialzista ragazzi e quindi euro dollar secondo me continuerà a scendere insieme ad odwisd almeno che poi dalle altre valute non ci siano delle news importanti comunque ecco qua impulso ritracciamento continuazione via così fino a 94 e mezzo per quanto mi riguardano o 94 avendo analizzato a livello tecnico questo grafico abbastanza chiaro possiamo andare poi ad analizzare gli altri ad analizzare gli altri i cambi valutari con maggiori informazioni vediamo S&P guardate che abbiamo guardate come S&P ha reagito alla Kijun ma questo riguarda gli indici e li vedremo dopo allora partiamo con la posizione che abbiamo aperto su GBPOD e vi faccio vedere come la pazienza alla fine è sempre l'arma migliore di ogni trader professionista o comunque di qualsiasi trader ragazzi noi io qui certo che a volte li faccio anche io questi errori ma sono è normale succede ragazzi noi avevamo aperto un'operazione long esattamente 1.79 una roba del genere chi è che c'era che non mi ricordo se che me lo può confermare su questo supporto bellissimo avevamo un impulso e ritracciamento che sono andato a tracciare ecco qua abbiamo un minimo qui un minimo qui impulso ritracciamento e guardate che cosa abbiamo anche abbiamo la ciclicità perfetta perché da questo minimo a questo sono 15 più uno fa 16 periodi dovevamo semplicemente avere pazienza perché oltre al fatto che questo era chiaramente un bel impulso il ritracciamento è finito con un hammer cioè veramente sono stato scarso a uscire dalla posizione però la tecnica era giusta andava bene che cosa abbiamo fatto semplicemente abbiamo lavorato in maniera un po' più conservativa del solito quindi dopo la candela di due giorni fa con questa candela insomma avevamo la conferma che questo era un bel impulso di ritracciamento e adesso da qui continuiamo a fare nuovi massimi secondo me poi non è detto vediamo come chiude la giornata però sicuramente la candela di due giorni fa è un segnale rialzista quindi teniamo d'occhio anche questo livello ok che ora potrebbe anche funzionare da supporto ma un po' tutta questa zona perché vedete che poi scusate che faccio un po' di zoom e riesco a farvi capire meglio quello che penso dopo questa candela rialzo c'è stato vedete nel giorno successivo un test dei livelli precedenti di queste zone qui anche oggi e da qui stiamo partendo a rialzo per questo che io oggi appena abbiamo superato questo livello ho deciso di entrare a rialzo tra l'altro ho segnalato tutto dentro Traders Club fino a dove possiamo arrivare adesso ritracciamo tutti i target non solo il primo a 1.82.37 ma anche gli altri andiamoli a vedere voi eravamo entrati Lucia dice eravamo entrati a 1.79 ragazzi sono un po' lastro cioè avremo già 200 punti di provito vabbè insomma abbiamo mi sentivo sotto pressione io su quella posizione perché da quando eravamo entrati i prezzi continuavano a testare il livello di 1.8 che non veniva mai rotto fatalità siamo usciti e l'ha rotto vabbè non importa comunque molto interessante la situazione quindi ad ora ad oggi manteniamo i long se siete entrati non si entra adesso se non siete entrati quando l'abbiamo detto oggi in Traders Club andiamo a vedere quali sono tutti gli obiettivi di prezzo quindi questo è l'obiettivo di prezzo finale poi abbiamo questo che non è che non ci interessa particolarmente poi abbiamo questo fantastico ed eccoci qui che abbiamo tutti i nostri obiettivi come detto il primo è un area 18237 secondo me ho sbagliato qualcosa no no ho fatto giusto e questi sono gli altri ok guardate molto interessante questo probabilmente io qui chiudo tutto però ci sono altri obiettivi perché guardate che a 184 secondo me ci arriviamo un bell'alert qui ce lo mettiamo così quando suona ce lo ricordiamo 184 crea avviso e niente insomma il trend rialzista cerchiamo di seguirlo il più possibile ok long se ritraccia 1.8 sì Leonardo ciao Riccardo sul dollar index entreresti long con stop sotto i minimi di oggi target price 94 vediamolo subito eccolo qui non saprei allora entreresti long a mercato con stop sotto i minimi di oggi beh sì si può fare long a mercato stop 92 40 92 45 e si cerca di seguire questo trend però così si va proprio all'inseguimento del trend questo è chiaramente pericoloso attenzione all'esposizione comunque sì si può fare io non vado a farlo in questo caso perché la mossa giusta era entrare long da qui ma non l'ho fatto e abbiamo visto quindi anche GBPOD abbastanza chiaro come trade chi è long su GBPOD giusto per giusto così per sapere allora Vittorio Lucia Luciano Mirko Fabrizio tutti quanti praticamente siete long e Francesco che è più bravo di me chiaramente è long anche da 1,79 bravissimo l'altra ha incrementato oggi la posizione sono siete tutti long long da 1,78 dice Matteo vabbè con poca esposizione però come da 1,78 come hai fatto ad entrare a 1,78 1,79 hai detto beh bravo cioè complimenti complimenti quindi bravissimo Matteo per la tua la tua entrata e niente insomma andiamo avanti e dopo GBP AUD che cosa possiamo andare a vedere euro dollar AUD allora AUD USD siamo usciti tutti a target spero qui abbiamo fatto un ottimo trade da 0,77 70 a 0 76 una roba del genere abbiamo chiuso sì 0,76 0,76 e 10 quindi abbiamo fatto un ottimo trade la mia view rimane ribassista perché sono a favore di dollaro americano la come inizia ad essere discendente abbiamo la linea Kikou che è qui sotto i prezzi l'incrocio c'è stato il trend è ribassista le candele anche nel senso scusate l'ampiezza delle candele rosse è sicuramente maggiore rispetto a quelle di quelle verdi e io devo dire che se anzi ma io entrerei di nuovo short perché io ieri ho detto secondo me da qui c'è un rimbalzo che mi va a toccare questi livelli e si può entrare short di nuovo invece che cosa abbiamo visto abbiamo visto ieri una chiusura sui minimi chiusura sui minimi rottura della cumo e oggi nuovo test della cumo e adesso stiamo scendendo quindi si può entrare adesso questa magari sarebbe un'operazione diversa dal solito ragazzi sarebbe diverso dal solito però prima andiamo a vedere quali sono gli obiettivi ritracciamoli perché come detto quando usciamo dalla posizione dobbiamo sempre mantenere d'occhio quel determinato strumento perché insomma possiamo anche rientrare fare altre operazioni eccetera eccetera andiamo a vedere quali sono gli obiettivi questo era quello finale 0.74.60 ok quindi se entriamo per esempio short adesso che cosa facciamo puntiamo a una continuazione al ribasso con forza il fatto è che non lo faccio io perché se entro short qui se volete entrare short qui dovete mettere lo stop loss o comunque quello che farei io è questo stop loss la chiusura giornaliera sopra il livello di 0.76.35 quindi sopra il massimo di ieri altrimenti se vogliamo fare un trade un po' più importante io vorrei attendere la zona di 0.77 un ritorno in area 0.77 0.76.80 per entrare short target sempre 0.74.63 questa è la situazione ragazzi che secondo me è interessante bene ok Luciano dice siamo già contro UD nel trade GVP UD anche questo è vero quindi diciamo che magari viviamo questo trade però molto interessante UD West da tenere sotto osservazione perché qui il trend è cambiato quindi molto bene molto bene continuiamo a comprare dollari questo è un periodo dove si comprano i dollari non si vendono per ora euro dollaro abbiamo chiuso la posizione in profitto anche qui si poteva lasciar correre di più però abbiamo chiuso perché abbiamo raggiunto un supporto passato segnalatoci dalla spam b piatta in area 1.18.10 e cos'altro volevo dire ne abbiamo un altro qui a 1.17.60 come avevamo detto quindi occhio anche a 1.17.60 anche qui stessa situazione di prima ragazzi qui il dollaro si apprezza euro dollaro scende tra l'altro contro tutto e tutti perché io non ho sentito nessuno che ha detto short euro dollaro tutti long erano tutti long e noi siamo short se si anzi io non più purtroppo però luciano è short francesco è short quindi bravi bravi tutti mi chiedete gvp usd e usd cad va bene comunque euro dollaro è questo si può rientrare nuovamente su euro dollaro marco chiede ancora short su euro usd speriamo di portarlo appunto al primo target 1.16 1.16 molto interessante 1.16 occhio che qui c'è un bel supporto magari si può portare a casa parte del profitto per quanto riguarda i target che mi chiedete di ritracciare lo vado a fare subito questo è il primo 1.15 molto interessante poi abbiamo 1.16 poi di nuovo abbiamo 1.17 e basta questi sono i più interessanti allora abbiamo marco leonardo anche perché si aspettiamo gvp usd ok lo vediamo dopo luciano il mio target primario è 1.17 40 secondo target 1.16 60 molto bene ecco qui il primo target chiaro occhio però che qui abbiamo dei supporti ok poi 1.16 60 sono d'accordo alberto dice domanda forse da neofita quanto è importante controllare il dollar index prima di aprire posizioni importantissimo chiaramente è molto importante non facciamoci influenzare troppo ma ragazzi sicuramente il dollar index è da tenere sotto osservazione sempre quando si va a fare trading sui cambi uh gbp aud ma che bello attenzione gbp aud sale abbiamo una bella risalita eh ragazzi lo vediamo anche su ma che bello dai 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 spingi che andiamo a target posso affermare che si può iniziare a rischiare di più con i nostri trade che facciamo perché in percentuale perché stanno rispondendo molto bene ehm i livelli tecnici sì 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 molto molto interessante ehm bene altro da aggiungere solo dollaro no quindi io direi che possiamo passare al prossimo vediamo S&P bene sta reggendo la Kumo e la Kijun non è detto che i prezzi reggano ma per ora sì tracciamo i ritracciamenti in questo caso di Fibonacci dai minimi ai massimi e ci accorgiamo che la Kijun è al 50% 61.8 invece è a 3828 S&P 500 cash scende oh questa è una bella notizia Leonardo me ne stavo per dimenticare eh EuroGVP noi siamo short su EuroGVP ragazzi eccolo qua eccoci qua Ichimoku di uno EuroGVP vi ricorderete che siamo entrati al ribasso su ehm su questo livello a 0.86 e 10 ehm un livello secondo me molto interessante perché qui i rapporti di riscordimento sono ottimi abbiamo un target in area 0.84 e 50 adesso vediamo il perché ehm i supporti i minimi precedenti si trovano in area 0.85 e 50 0.85 e 25 quindi qui possiamo poi spostarlo stop in pareggio e lasciar correre molto interessante sarebbe che quest'oggi i prezzi chiudessero sotto la linea Tenkan quello sarebbe proprio un bel segnale vedrete poi come la stellina si apprezza però io penso sia ovvio che a 0.85 e 50 portiamo lo stop loss in pareggio andiamo a vedere però anche a livello ciclico se la situazione è interessante partiamo da questo giorno che è sicuramente il giorno dove è partito l'impulso al ribasso il nuovo impulso a ehm l'altro giorno quando è stato creato il massimo o più o meno qui insomma guardate anche a livello ciclico ci siamo quindi l'onda da prendere in considerazione al ribasso anche il discorso delle onde ragazzi per chi non ha fatto il corso lo vedremo lo vedremo nel dettaglio come perché la ciclicità non posso star qui a spiegarvi la teoria perché c'è il corso comunque impulso ritracciamento ci siamo anche a livello ciclico quindi mi piace questo trade l'ho fatto apposta perché mi sembrava molto interessante Fibonacci e abbiamo un target dove l'ho messo per sbaglio eccolo qui a 0 84.50 molto interessante andiamo a tracciare però anche gli altri obiettivi di prezzo quindi abbiamo un bel target finale a 0.83 e 30 bello distante ragazzi però va bene poi abbiamo anche un obiettivo in area 0.84 e 20 e direi che li abbiamo tracciati tutti e tre ne manca uno scusate che è questo ecco qui in questo periodo Ichimoku va forte 4-3 consecutivi dalla mia parte silver euro dollaro nasdaq gbpd luciano si devo dire che stiamo andando molto bene io magari ho preso lo stop sul nasdaq perché ho lasciato poco spazio sono entrato tardi insomma mi chiedete di vedere USDCAD ed euro yen le abbiamo chiuse USDCAD ed euro yen con delle piccolissime perdite che però non ha niente a che vedere con i guadagni fatti su euro dollaro e AUD USD e con quelli che secondo me faremo su gbp ed euro gbp staremo a vedere però abbiamo chiuso subito ci tenevo molto quindi ho guardato la chiusura delle ore 22 30 intorno alle 22 30 23 per comunicarvi in traders club cosa facevo infatti avete ricevuto il messaggio penso intorno alle 22 30 io ero ancora qua al computer 22 30 23 e infatti ho agito di conseguenza ho chiuso subito le posizioni senza perdere tempo ed è stato bene così comunque questi sono i livelli di euro gbp può la stellina apprezzarsi così tanto ancora perché no seguiamo il trend come al solito sul settimanale qua scende proprio in tranquillità francesco alle 22 30 al computer mica con una maltese una birretta esatto ero al computer stavo facendo altri lavori comunque nel senso stavo sì lavorando per conto mio per quanto riguarda allora da euro gbp passiamo da euro gbp passiamo a un altro cos'è che dobbiamo vedere adesso vediamo mi chiedete un consiglio su gbp yen un consiglio su gbp yen andiamo subito a vederlo eccoci qua gbp yen giusto francesco sì quelli sono i nuovi ordini pendenti su gbp usd e anche su euro su euro yen ok andiamo subito a vederli allora template andiamo a impostare l'indicatore di cimoku time frame giornaliero gbp yen che cosa vediamo che c'è un ci sono dei primi segnali di cambio di trend come tra l'altro come tra l'altro vediamo su euro euro yen ecco qua gbp yen ed euro yen sono molto simili su euro yen i ribassi sono stati più forti più importanti mentre su gbp yen meno è il caso di vendere gbp yen o di vendere euro yen Simone mi chiede su sd yen ci potrebbe essere nel medio un'opportunità short non penso o comunque non andrò mai posizionarmi short su sd yen perché il trend rialzista abbiamo visto che il dollaro è forte quindi sicuramente non andrò a fare sd yen non sicuramente ma per il momento meglio andare a fare altri strumenti e non fare sd yen nel senso yen lo yen lo compriamo magari con contro l'euro sarebbe meglio contro la sterlina occhio che la sterlina è forte come vediamo che dire allora sì stavamo dicendo gbp yen un consiglio assolutamente sono entrato short ieri su gbp yen dove sei entrato short perché dammi delle spiegazioni io ti do le mie allora abbiamo gbp yen trend palesimetri alzista solo ieri si è stata rotta la linea cajun e oggi stiamo facendo insomma i prezzi stanno ritornando su questa zona resistenziale che ti vado a tracciare almeno che secondo me è una zona dove i prezzi potrebbero è una zona che potrebbe essere resistenziale e adesso andiamo a vedere il tutto ok allora prima però partiamo dal settimanale che cosa ci dice il settimanale trend rialzista assolutamente dopo tutto questo rialzo ci sta anche un ritracciamento perché no ma chi lo sa dobbiamo trovare le conferme sul daily ecco il daily non ci sono molte informazioni in più sul weekly alla fine ci sono andato a vederlo così velocemente però sul daily abbiamo un bel impulso ribasso che rompe questa zona supportiva e adesso siamo di nuovo sulla zona supportiva quindi una mossa intelligente o più che intelligente di copertura è magari provare sì uno short su gbp yen perché stiamo comprando sterlina contro dollaro australiano e sterlina contro l'euro quindi andare a vendere gbp yen è una parte insomma si diminuisce il rischio sostanzialmente qualora lo yen si apprezzasse contro tutte le altre valute però non è non è che la sterlina contro l'euro di sicuro perde terreno quindi euro gbp non è detto che per forza salga come non è detto che gbp ueudi scenda se lo yen si apprezza con la sterlina gbp ueudi può continuare a salire euro gbp continuare a scendere ma se lo yen diventa la valuta più forte gbp yen scende e noi abbiamo fatto un capolavoro quindi adesso vediamo se è più il caso di entrare su gbp yen o su euro yen su euro yen abbiamo impostato un ordine pendente perché mi convince di più chiaramente a livello tecnico è più convincente visto che l'euro ha perso più terreno infatti notiamo che cosa che dai massimi c'è stato un bel impulso ritracciamento impulso qui bam non c'è neanche stato un bel impulso ritracciamento per ora secondo me solo l'impulso quindi noi dobbiamo attendere il ritracciamento quando ci sarà il ritracciamento entriamo short per il momento l'ordine pendente abbiamo impostato 129 e 20 qui dobbiamo in realtà aumentare l'esposizione ma vabbè lo faremo dopo stop loss dove impostiamo lo stop loss sopra il massimo della candela di rottura come vedremo al corso alcune informazioni importantissime i prezzi stanno rimbalzando fatalità perché abbiamo raggiunto questa zona qua guardate la linea che ho raggiunto questi livelli però sul ritracciamento entriamo short 129 e 20 oh eccoci qua entrato adesso su euro gvp è fatto 45 punti complimenti quindi anche noi li stiamo facendo vabbè dopo andiamo a rivedere le posizioni aperte detto ciò euro yen 129 e 20 stop loss sopra qui target ancora da valutare non si sa ancora però questa è una bella situazione teniamo d'occhio quindi lo yen che sembra essere una valuta forte ci sono dei primi segnali di inversione dei primi segnali di apprezzamento dello yen contro tutte le altre valute uno su tutti il segnale di due giorni fa perché guardate che candela che ha fatto qui bene vediamo se avrà confermato oppure se è una finta rottura non penso che sia una finta rottura quindi poi valuteremo se entrare short su euro yen se invece vogliamo entrare short su gbp yen lo possiamo fare per esempio adesso con uno stop dove sopra qui 150.86 quindi se i prezzi chiudono daily sopra qui usciamo dalla posizione lo facciamo? cosa ne pensate Luciano Francesco anche i più esperti insomma ditemi tutto quello che che volete lo apriamo uno short su gbp yen qui non lo apriamo cosa facciamo? allora abbiamo uno stop di 120 punti ok quindi qui possiamo impostare 1 o 0.08 non so fate voi vi consiglio sempre di operare con meno di un minilotto perché però insomma fate anche un po' come come vi trovate meglio sto aspettando le vostre risposte allora mi dite che preferite euro yen a Luciano non convince molto invece a Vittorio sì Vittorio convince cosa facciamo? entriamo? non entriamo? non lo so sono un po' indeciso signori su questo livello entriamo short eccolo qua un bello short a mercato short a mercato stop loss sopra questo massimo lo impostiamo per ora 151.50 ma poi in realtà rischiamo anche meno perché appena supera questa zona in chiusura daily usciamo dalla posizione DAX in rampa di lancio per esplodere al rialzo attenzione facciamo un DAX in diretta long intanto l'SMP è recuperato molto bene andiamo a vedere il DAX se riusciamo a prendere anche allora dimmi adesso Francesco decide che cosa facciamo entriamo long a mercato fammi vedere il cavolo qua siamo in ritardo però questo era un bel buy in climax Francesco oppure no 610 livello chiave non so se stai parlando però del cash o del future eh tu l'hai comprato sui minimi eh Francesco dai minimi l'hai comprato è bravo qui per esempio si può comprare se vogliamo fare un trade sul DAX per esempio non siamo long su S&P si compra qui stop sotto questo minimo e via ok quindi si può fare assolutamente oh ecco qua eh niente ragazzi il trend rialzista lo sapete ne ho parlato anche ieri e quindi noi continuiamo a seguire i trend i trend li seguiamo che va sempre bene eh quindi euro yen l'abbiamo fatto gbp siamo entrati short eh siamo entrati short da qui e i target li vedremo andiamo ad allargare un po' il grafico per vedere quali sono magari i supporti sicuramente dobbiamo trovare questa zona qui come primo obiettivo eh che sono comunque 200 punti però insomma io lascerei correre anche un po' di più eh si potrebbe anche incrementare un po' le posizioni vabbè poi vediamo euro yen l'abbiamo messo lì gbp usd allora gbp usd ragazzi io qui eh eh ho impostato uno short a 1.38 la situazione a me sembra chiarissima abbiamo la kikou che è la linea nera che è passata sotto i prezzi con forza incrocio tenkan eh kishun su tenkan rottura dei supporti con candela ad alta volatilità perfetto bene un ritracciamento qui potrebbe creare delle buone opportunità a 1.38 oppure anche 1.38 e 50 dove troviamo anche la cumo piatta bene se entriamo a 1.38 e 50 possiamo anche impostare lo stop a 1.40 sono tanti punti ma ci può stare se invece vogliamo entrare prima a 1.38 però sopra 1.38 e 50 alla rottura di 1.38 e 50 è il caso che usciamo dalla posizione comunque questo è un altro trade madonna ma quante ne abbiamo fatti oggi eh ma ragazzi quando poi i mercati si muovono ci sono le opportunità dobbiamo essere bravi ad avere pazienza quando di opportunità non ci sono perché se facciamo se operiamo anche se non ci sono opportunità l'unica cosa che faremo è perdere soldi eh cosa che noi non vogliamo fare eh e basta quindi abbiamo visto tutto euro dollaro euro yen gbp yen siamo entrati short gbp usd gbp aud siamo long ma che bello eh aud usd non siamo più in posizione ma teniamolo d'occhio dollaro index bucks euro gbp che bello eh molto bene direi che abbiamo finito Alberto guardare Riccardo fare trading è molto meglio che guardare Netflix eh e guarda se ti piace se vi è piaciuta questa sessione molto semplice mi fate un bel piacere servizi ecco qui la voce servizi entrate nella in questa voce in questa sessione di trading con incimocco più price action mi lasciate una recensione poi è di quello eh delle stelle che volete 4 3 2 1 0 5 5 scrivete insomma due o tre parole insomma a me fa sempre molto molto piacere ragazzi io direi che per oggi abbiamo concluso un'ora insieme oggi siamo andati forti magari per chi era la prima volta si è spaventato un po' però ragazzi eh ragazzi se eh questa è la la sessione più operativa della settimana qui si va forte se volete stare al passo con le analisi che facciamo c'è il corso fidatevi fatelo 299 euro tanto dove li spendete questi soldi dove non potete uscire non potete fare niente un po' di formazione sapete quanti soldi ho speso in formazione in questo periodo dove sono stato a casa va solo che bene eh grazie del parere su Euroian grazie a Tamirco eh Stefano dice ciao Riccardo dal video eh caffè mercati del 23 marzo se non ho capito male hai detto chi acquista il servizio traders club è compreso anche il servizio di trading live più trading con Ichimoku esattamente sì eh eh esattamente sì bravissimo Stefano è così se vi abbonate il servizio traders club che costa 179 euro al mese avete avete compreso anche Ichimoku e trading live quindi assolutamente un prezzo vantaggioso anche lì però io se non l'hai preso ti consiglio di fare il corso che così almeno hai una strategia anche da usare autonomamente eh e io con questo vi ringrazio molto vi aspetto al corso e auguro una buona serata e un buon trading a tutti